Avanti c'è posto, dopo che 38 gestori di concessioni demaniali di Ischia hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica chiedendo di dichiarare nulli gli atti con cui il Comune ha prorogato le concessioni sino al 31 dicembre 2024, ecco che arrivano anche altre attività ritardatarie che parimenti propongono ricorso al Capo dello Stato, affidandosi all'Avvocato Felice Pettorino che già rappresentava il precedente esercito come legale. Su tutti c'è il puntamolino che proprio di recente è stato acquisito da Teresa Naldi che ha fortemente voluto puntare sull'iniziativa giudiziaria, poi nell'elenco dei ricorrenti figurano anche Bagno Filippo, Rosaria Marsili, ristorante Bagno da Luigi Ammare. Anche in questo secondo ricorso non cambiano leitmotiv e obiettivi dei firmatari dello stesso, annullare cioè gli atti del Comune di Ischia che prorogavano le concessioni demaniali di riferimento fino al 31 dicembre 2024 e ritenerle automaticamente estese fino a tutto il 2033 e la differenza non è da poco per la serie Mattarella Pensaci Tu.